www.cba2.tv 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 quando non c'è la sua intesa, la loro populazione è promete. Come un leader, la loro populazione è promete. Se avessero tutti i loro avessi, suizzeranno anche a un'agrazione non activa, ma un po' di fine e il loro bisogno di vedere, ma c'è la loro contribuire, ma non è buona, ma c'è la loro volda. Quindi l'Indico Presidente ha detto questo un altro punto per cominciare con il governo angolenoso, ma c'è la situazione qui. che è molto pienso di questo, l'indico della verità o no? Signor, il Regenar ha un'agenda, in tutto il caso, con il nostro paese di Corsò. Ci sono molte cose, ma ci sono davanti, non so, ci sono le pregunte, ci sono le vostre agenda, ci sono i programmi di governazione. Noi, non ci sono, ci sono, se c'è una rifineria, c'è un pilar di economia, non c'è tanto l'economia, l'economia è stancata, l'economia è crema, non c'è un pilar di capo di dal, non c'è un salto mortal, non c'è anche un'economia, non c'è un'economia, non c'è un pilar di fare, ma non c'è un pilar di dire, ma ce si è un po' di Corsò, c'è un'agenda vera. Non c'è nessun pò, il fraccia di oposizione a prendere la proposta di Ordo, non c'è di dare la votazione, che mi hanno detto di una maniera dictatoriale il signor Mellorzano ha deciso di non mettere la votazione e così con il Presidente di Vimbeck noi che mi hanno detto in Parlamento anche con il lato però mi hanno detto di una maniera che la faia il pobo qui la tua classe di respeto vai a l'Holanda noi non ne sappiamo qui vai a l'Holanda che mi hanno comportato il Presidente di sale di suo paese e la nazione non sape di dove vai chi la vai haci che mi hanno detto questa è una cosa che ho bisogno di responsabilizzare Ministra Zita Jesus Laito ha donato conoscere che ha detto la parola temporale per il docente e si tratta di poterire il salario di il docente di San Diozo mi hanno detto il ministro di insegnanza e mi hanno detto che mi hanno detto che il docente di Vimbeck di San Diozo che mi hanno deciso di prendere il lavoro e non hanno detto che si tratta di avere il salario a DEN e ora è il mio padre con noi quindi mi hanno detto che mi hanno detto con il mio padre con l'Holanda e anche con il Ministro di insegnanza per noi guardare che c'è un problema preciso mi ha detto che nel final del giorno non si arriva a parlare con il altro per il mio collega Tabbini altri rimani e altri rimani per mi per noi per noi solucionare il problema agudo quindi non si arriva alla parola con il nostro con il nostro guante che hanno detto di San Diozo e ora è un'espasio per il docente qui con il rappresentante di CITEC per il nostro papi e attendere il punto qui di un docente che non ha con il B con il assunto di ora di mentor che non si arriva che non si arriva a pagare e che non si arriva a scala e il numero di docente B non si arriva a un punto che non con il mestre di attenzione e il mestre di papi di Bacchè e che non si arriva con il Erkaz Robescu ma non cata per il Erkaz Robescu stai dicendo che non si arriva ma non si arriva che non si arriva a retenere di ora qui d'un ministro di Enseanza e Spasio per l'unico con il sindicato e il docente qui handle la situazione che ci sono qui Ministra Zita Jesus ha detto a Sigi Bisa che c'è diversi punti di preoccupazione che il governo e il sindicato che hanno attendere per arrivare una soluzione per la situazione di lavoro e per il docente c'è un convenante che non si arriva che non si arriva la situazione che non si arriva il docente per il d'unico che non si arriva un lavoro che non si arriva la situazione che non si arriva in quanto attrae come mentor e il salario di un docente a il docente non si arriva il lavoro di un mentor che mi è un 3 ore non il mentor anche a CECA perché che passano non si arriva il stop di trà e tre ore nel 4 ottobre, che annuncia la scuola di studio di notazione. La scuola di studio ha fatto una notazione di lavoro, se si è pagato o se è pagato, o se si è pagato di lavoro, ma se si è pagato meno ore, ma se si è responsabile, e ora non si è pagato. A base di ora non si è pagato, significa che se è pagato una notazione, e non si è pagato, non si è pagato. Quindi, questa è una discussione. Quindi, ora qui, ora con il ministro Alcalabini, non si è pagato, non si è pagato, non si è pagato, non si è pagato. Però ora qui c'è un impasse, si è pagato, non si è pagato? Non, lo che è pagato ora qui, che c'è un'impalazione, che c'è un'impalazione, in tutto caso, che c'è un'impalazione qui, per aclarare il punto non è qui, non si è pagato un'impalazione, non si è pagato un'impalazione, non si è pagato un'impalazione qui. Parlamentario di Partito Político PEN, il senor Renox Calmas, a donna di Conocer, come se trece un manejo, manera a palabra, di un'acuerdo di governazione, riba ayanan, con il marano, il papel di buon conducta. Parlamentario Calmas, a Sigi Bisa, che tu riene, che comete un delitto, ma si senta un castigo, sin ninguna excepzione. che c'è un'impalazione, che si è pagato un'impalazione, non si senta un'impalazione, si è pagato un'impalazione, perché è impossibile per il lavoro, perché non è vero il lavoro. Guardando la situazione qui, abbiamo fatto un caso di gente che si è in Caisera, che hanno 3-4 anni, che hanno un luogo più di presenza, e che hanno comportato un buon lavoro, e il ministro pubblico ha chiamato un bacco, perché non si è stupida. Cosa è il manejo? Il manejo è una cosa che non si è in grado, se c'è un caso di come, se c'è un problema, mi hanno fatto un caso dióleo, se c'è un caso di loro, ma non è una cosa che, ma non si è un caso di chiudere, ma non si è un caso di chiudere. Mi sono stati consuficiente, ho messo gli uomini, ma non si è un delitto, ma non si è un problema. Come parlamentare, ci sono stati, ci sono stati, che mi credo che sia quando mi fai sometimescuttanto questo. Siamoiamo, se è finito che ora mi fai attraverso fino a 5 anni e poi arrivo qua, ora faccio un caldo, mi fai sempre che mi fai mai aperto. Quindi io mi fai attraverso, io mi fai sempre attraverso. Che c'è il cui pensamento? No mi pensamento di partito, il cui pensamento che ci hanno dovuto fare i tráfico e i sali di assinanza, è che ho sentito. Sì,美國 ha lasciato un problema con la preoccupazione del paese da città che che già adrecchiano la vita e formano un bambino. Però se è persona, è il mestre Caba, sinta il suo castigo e sa che il mestre tome il luogo. Per comprenderlo la situazione, la regola di sua vita, è un problema, ma è fatto in base a un delitto. Il bambino è un delitto che è perjudicato a un altro, una persona perjudica a una comunità e a una totalità, e si è perjudicato a un delitto che è perjudicato direttamente. In teoria, con chi non sta convenzendo, non è il suo dolore. Non c'è qualcosa di direttamente per fare. Perché non c'è una situazione per fare, non c'è una situazione, ma è sempre libera dal Ministro Público per decidere come fare parte, ma è un quadro di legno del Parlamento. E io ho fatto anche la direzione del Ministro Público, per non creare situazione qui nella comunità, quando non c'è una discussione. Se c'è una strafe di un ues, il Ministro Público sta diventando 8 strafe, in maniera mi stertata, non creare situazione, in maniera mi stertata, ma la propria pubblicazione di che il comitere delito, fa 5 nove euro di sentenza di un uesci, quindi parteciano in una società piccola, in un momento che si fa una informazione, si viene da una parte, si lo cumpriamo a tutti i strafzi, si lo liberano, si vanno con la cacera, ma poi si vanno a sottolineare, non presenta caso, non si vanno a una corte, ma poi, si vanno a sottolineare, se si non ce l'accepterà, si vanno con la cacera, ma poi non vanno a sottolineare, perché non è stata un'altra cosa, non c'è un'altra cosa, non c'è il problema non è il carabell di un polizio proviso, ma è un'altra cosa che ci sarebbe un po' di fare benevole e ci sarebbe un po' di effetto, quindi se lo amachemo, se lo amachemo e non in un castigo, ci sono tutte poi di una comunità, non c'è un po' di più. Ci siamo sempre come partiti per arrivare a benci Tagliionato a Ponte, di tutti i loro, benissimo. Un'altra cosa stava per atteggerli per prendere le persone a fare un buon cond своим accordo di governazione, la nostra parte è che se si è qualcosa di roba il Ministerio Público attende a questo in maniera di essere in una crescita nella nostra comunità ci sono i nostri amici passi in Holanda in Holanda è un'occasione non è un po' caso, non è un'occasione ma è un'occasione, non è un'occasione non è un'occasione, non è un'occasione ma è un'occasione, ma non è un'occasione ma non è un'occasione, non è un'occasione non è un'occasione Televidente mi chiedo attenzione a guardare per il nostro tempo Ewer è una presentazione di Il Consolador è unico funerario e a guardare la città dopo che solo sarà il nostro tempo Il prognostico di tempo è un'occasione di soli 6 ore Il tempo, l'occasione, il cuore è un'occasione di arricchire e un'occasione di arricchire non è un'occasione di seco ma non è un'occasione ma l'occasione, ma il cuore e la città le vi da di spi a quando si è un'occasione di arricchire e spera di 1 o meno di durazione cortica temperatura máxima è un'occasione di 32 e temperatura minimo 25 gradi. Viento for di direzione oost e moderata basta fuerti forza 4T5. Principalmente del dia off del avacero, di vez in quando fuerti del rafaga. Situazione general, nota anticipa nuvia significante arriva nella regione durante di Miami Hinta e pese inno suere lo queda generalmente seco. Un'area di nuvia con l'avacero, sin embargo, sta situando l'avacero arriva nella parte orientale dell'area del Carribe e sta movendo in direzione oost. Sta anticipa che il sistema l'avacero arriva nella regione di Miami Hinta. Localmente, non c'è alcun avacero nel momento in arriva nella isla. Condizione di l'amano, generalmente moderata, con la altura di ola è tra 1 e 2 m. Sistema significante di huer tropical, ningun. Perspectiva di chiamars merdìa, por lo generalmente nubla e generalmente nubla. Il Consolador è unico agenzio funerario con dato un servizio a nocci. Il Consolador è unico agenzio funerario che mi ha avuto da un servizio a nocci. Il Consolador è unico agenzio funerario che mi ha avuto da un servizio a nocci. che mi ha avuto da un servizio a nocci. Il Consolador è unico agenzio funerario che mi ha avuto da un servizio a nocci. Il Consolador è unico agenzio funerario che mi ha avuto da un servizio a nocci. Il Consolador è unico agenzio funerario che mi ha avuto da un servizio a nocci.